buongiorno a tutti e bentornati qui sul canale youtube di cultura pop io sono sempre victor laso 88 ed è tempo non di un unboxing ma di uno showcase perché vi farò vedere alcune cose interessanti ma prima come sempre vi ricordo che se volete supportare questo progetto potete iscrivervi cliccando su postati iscriviti sotto al perere questo video se lo fate mi raccomando non dimenticate cliccare anche l'icona della campanella per rimanere aggiornati su tutte le novità che escono sul canale non ci sono solo i video di unboxing che faccio io ma anche un sacco di bei video realizzati da vari membri della redazione che sono approfondimenti riguardanti la cultura pop il mondo geek e nerd in generale quindi se vi interessa sapete cosa fare oggi si parla di fantascienza sì perché ho qui con me una selection di libri selection del buon asimov adesso vi spiego di cosa si tratta questa è una cosa a parte che però sempre fa sempre parte di questa di questa idea allora vedete qua viene fuori il nome del buon il cognome del buon asimov ok qui potete notare le pagine colorate che è una cosa che io adoro fin da quando mi scoppiavo i piccoli brividi da quando ero bambino vi ricordate le famose pagine con la costina verde no allora di cosa si parla questi non sono libri di asimov no tra l'altro guardate sono voluminosi con pagine estremamente sottili non dico che sono sottili come la bibbia ma poco ci manca scritti in caratteri insomma belli fitti belli piccoli anche sono storie che asimov ha diciamo selezionato storie per capire la fantascienza sono i fondamentali per comprendere la letteratura di fantascienza presente quando si fa la classica domanda non sono appassionato di questa cosa vorrei approcciarmi ci da dove iniziare e bene se non siete mai stati dei grandi lettori di fantascienza a livello letterario potete rimediare acquistando dico tutti e poi se volete una cosa più completa fateli tutti ma anche uno solo di questi volumi sicuramente vi può aiutare perché sono quasi tutti racconti brevi o lunghi selezionati da da isaac asimov che secondo lui sono i fondamentali per approcciarsi alla letteratura di fantascienza ci sono vari racconti tra cui anche l'io robot ma non quello scritto da asimov quello poi da cui asimov prese ispirazione quindi non è il robot originale e poi c'è un racconto che è bugiardo che è un racconto fondamentale che quello mi pare sia proprio di asimo che si parla della prima è l'unico di asimo che si parla di questo robot che sostanzialmente ha un difetto di programmazione e contraviene a una delle leggi della robotica ovvero non mentire agli esseri umani quindi lui inizia a mentire e questo lo porterà a delle conseguenze perché lui per difetto di programmazione può farlo che non significa che abbia una personalità significa che può eludere quella specifica legge della robotica non perché voglia ma perché è stato erroneamente programmato in quel modo quindi ci sono anche tutte le varie implicazioni per il resto sono tutti i racconti non di asimov che però sono eccezionali sono veramente eccezionali vi faccio vedere un po' cosa abbiamo ad esempio qua si parte dal 39 aspetta qui si qua si parte dal 39 ok qua c'è tutta l'introduzione eccetera si inizia con lo strano volo di richard clayton problemi con l'acqua il mantello di asir di donna e stewart poi il distruttore nero la giraffa blu stella che brilli lassù confino sono tutti racconti che vi aiuteranno a destreggiarvi in un mondo affascinantissimo perché la fantascienza letterariamente parlando è qualcosa che esiste da parecchio tempo asimov non è stato il primo a scrivere di fantascienza asimo semplicemente è stato uno dei papà della fantascienza contemporanea quella che ancora oggi viene presa in considerazione poi ovviamente c'è una fantascienza nettamente più datata come quella di rice borroughs che quello che aveva scritto john carter da marte quello che aveva scritto poi anche tarzan che lì è più sul fantasy se vogliamo ma ad esempio senza andare troppo lontani uno dei padri dello steampunk è considerato essere jules verne jules verne o jules verne non so mai come si se la s si deve pronunciare o no scriveva di fantascienza viaggio al centro della terra 20.000 leghe sotto i mari di base sì hanno delle connotazioni che avverte che sarebbero poi state diciamo affiancate allo steampunk però ovviamente stiamo parlando di fantascienza dura e pura fantascienza anche parecchio datata se vogliamo proprio stare a guardare quindi la fantascienza una tradizione letteraria lunghissima io vi cito un altro grande papà della fantascienza che ancora oggi ispira a posteriori film e trasposizioni varie che è herbert g wells vi ricorderete la guerra dei mondi the time machine cioè della guerra dei mondi è stata trattata una miniserie poco tempo fa oltre oltre al film di spielberg di 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 parecchi anni fa cioè è comunque un tipo di letteratura che viene spesso rielaborata l'uomo invisibile sono decenni che il cinema attinge l'uomo invisibile e solo un paio di anni fa è uscito the invisible man della blue mouse diretto la league one che è stato un successo incredibile a fronte dei costi per dirvi che la letteratura di fantascienza anche se datata ancora oggi è perfettamente rielaborabile asimov questo lo sapeva e quindi questi sono testi selezionati da lui proprio per rispondere alla domanda che cosa posso leggere per approcciarmi alla fantascienza che ha mille sfaccettature diverse ci sono i romanzi i racconti i racconti poi sono fantastici perché questi sono per lo più racconti nel giro di poche pagine ti esprimono dei concetti importantissimi ad esempio un morto in casa qua poi perché sono sono divisi per annate dagli anni 3 dal si parte al 39 qua ci sono gli anni 60 capito fino ad arrivare a una nostra contemporaneità quindi è una sorta di selezione quasi enciclopedica di racconti di fantascienza per arrivare ad avere un quadro più completo poi qua abbiamo questa trilogia di urania quella della rivelazione la trilogia che ha dato via grandiosi scenari cosmici e la rivelazione il capolavoro della science fiction contemporanea che ha ridefinito la space opera questa è la trilogia originale di alistair reynolds un'altra un'altra grande opera di un altro autore questa è l'opera completa della trilogia che secondo me va assolutamente vista quindi questa è una cosa che non c'entra con questi ma va a completare un quadro perché è una grandissima edizione urania tra l'altro non so se voi sapete la storia editoriale di urania che è molto particolare perché il successo di un'opera è decretato in un certo senso dal da come viene vista editorialmente ad esempio gli urania una volta erano considerati paraletteratura questa edizione di urania è particolare perché se voi vedete come erano gli urania quelli veri quelli con la copertina bianca e le finiture rosse erano quelli che trovavi in edicola cioè la paraletteratura è quella letteratura che di solito non lascia grandi tracce nel mondo della letteratura e che più che nelle librerie la trovi in edicola si trovava nelle edicole dei supermercati anche di base sono gli armoni della fantascienza che decenni fa avevano tenuto banco ed erano molto molto comprate quant'altro asimov in italia era un autore di paraletteratura perché la fantascienza in italia non ha mai tirato molto poi a un certo punto certe opere pubblicate nella collana urania sono state promosse e adesso la collana urania si trova tranquillamente in edicola in squadre in libreria e moltissimi degli scritti dei romanzi pubblicati su urania sono diventati dei veri e propri cult anche per il pubblico italiano quindi urania nasceva come collana da paraletteratura che poi è diventata una collana da libreria e infatti un autore come Alistair Reynolds da noi veniva considerato un cialtrone che scriveva cose da paraletteratura e adesso invece ha un suo bel volumone cartonato che costa anche la bellezza di 32 euro poi tutti i link li trovate in descrizione qui sotto questi hanno dei costi variabili ad esempio 35 euro però ragazzi 35 euro ma stiamo parlando di quasi, no sono mille, 1350 pagine circa questo volume qua poi gli altri hanno qualcosa meno ma siamo comunque sempre circa sulle mille pagine grosso modo, questo ne ha ad esempio, questo ne ha mille, questo ne ha 980, questo ne ha mille quell'altro ne ha quasi mille, 1350 ne ha, questo ne ha più di mille anche lui, mille, mille, venti una cosa del genere, l'ultimo ne ha anche lui più di mille, no si ne ha 990 quindi sono tutti da sopra a circa migliaia di pagine quindi stiamo parlando di, poi non siete neanche costretti a comprarli tutti cioè magari per curiosità volete, questo è un'opera e una trilogia se invece volete iniziare con qualcosa di più soft sull'impegno perché sono racconti e il racconto ti impegna di meno li puoi anche leggere non in ordine, puoi anche leggerli secondo il sentimento se volete una cosa un po' più soft ma comunque interessante da un punto di vista intellettuale perché comunque vengono espressi ai concetti importanti allora uno di questi volumi o tutti se avete voglia io ve li consiglio grandemente perché da qui inizierete a capire un po' meglio la letteratura di fantascienza esperienziandola non so se ho detto una parola che esiste ma non importa quindi io ringrazio chi ci ha fornito questi volumi io poi adoro Asimov, va detto che non sono scritti suoi tranne uno da loro racconto ma per il resto, cioè io mi fido della selection di un maestro della fantascienza come Asimov che è uno che ha voluto selezionare alcuni autori che secondo lui sono stati importanti per questo tipo di letteratura quindi spero che questo showcase vi sia piaciuto fatevi sapere un conto qui sotto qual è la vostra opera di fantascienza letteraria lasciate stare i film per questa volta letteraria preferita o il vostro autore di fantascienza letterario preferito e perché e fatemi sapere se avete già comprato o avete intenzione di comprare uno o più di questi volumi e se conoscete la trilogia originale della rivelazione di Alastair Reynolds quindi grazie mille e noi ci vediamo al prossimo unboxing ciao a tutti e buona giornata grazie mille